A Vasto è partito il Mennabis, questa mattina primo consiglio comunale a seguito delle elezioni dello scorso ottobre vinte nettamente al ballottaggio dalla centrosinistra. Dopo la convalida degli eletti e il giuramento del sindaco si è passati all'elezione del presidente del consiglio e del vicepresidente. Scelto come guida della sise civica Marco Marchesani, il 26enne primo tra gli eletti della lista filo comune e il più giovane presidente del consiglio che la città di Vasto abbia mai avuto. Queste le sue parole a margine della nomina. È un onore per me rivestire questo ruolo che porta grande carico di emozione e grande carico di responsabilità. È un ruolo istituzionale molto importante che il consiglio mi ha voluto affidare con il proprio voto. Ringrazio quindi i colleghi consiglieri. Innanzitutto collaborerò con i gruppi consigliari di maggioranza e di minoranza. Sin da subito, già a partire da domani, convocherò una riunione con i vicepresidenti del consiglio comunale in quota maggioranza e in quota minoranza. Ci riuniremo e inizieremo ad impostare un lavoro che sarà diciamo costruttivo per il consiglio comunale. Francesco Menna, giornata importante a Vasto. Si è insedato il nuovo consiglio comunale? Giornata sacra, quella dell'insediamento che consacra appunto il primo consiglio comunale. Il consiglio che darà vita a 5 anni di amministrazione attiva, 60 mesi di duro e gran lavoro a favore della città. Un ringraziamento di cuore a tutti i consiglieri comunali, assessori, al signor prefetto, al procuratore della Repubblica, al presidente del Tribunale, alle autorità civili e militari presenti, ai consiglieri regionali, tutti per fare squadra per il bene di un territorio.